In questo capitolo esamineremo il layout di base dell'editor filmati ed eseguiremo le prime fasi di editing. Fai clic sulla scheda filmato. Qui hai accesso a una versione mini della libreria. Alla finestra di anteprima e alla timeline. Nella timeline sono disponibili più tracce. Le tracce sono segnaposto nei quali puoi inserire contenuto video, immagini, audio, titoli e altro ancora. Ogni traccia può contenere tutti i tipi di file multimediali. Trasciniamo due clip video, un clip audio e un elemento di testo nella timeline. Non appena questi elementi sono nella timeline, sul clip corrispondente della libreria viene visualizzato un segno di spunta. In questo modo puoi vedere facilmente gli elementi utilizzati per il filmato. per impostazione predefinita il formato video viene impostato in base al primo clip trascinato sulla timeline. Puoi modificare questa impostazione nel pannello di controllo, dove puoi definire il formato di uscita preferito. Il formato della timeline può essere cambiato in qualsiasi momento. Quando studio non può riprodurre una sezione complessa del filmato senza ridurre la frequenza dei frame, esegue un processo chiamato rendering. Questa operazione viene eseguita anche quando cambi il formato della timeline. Quando studio esegue il rendering, viene visualizzata una barra verde nell'area del righello della timeline. Quando la barra di rendering non è più visualizzata, è possibile riprodurre quella sezione del filmato in modo uniforme, senza ridurre la frequenza dei frame. Il pulsante Storyboard Navigatore consente di utilizzare il navigatore o lo storyboard o nessuno dei due. Puoi utilizzare il navigatore per spostarti in avanti e indietro nella timeline, nonché per ingrandirla e apportare regolazione di precisione. Puoi anche usare i tasti più e meno del tastierino numerico, o selezionare il righello posto nella parte inferiore della timeline in corrispondenza dei marcatori hash numerici per eseguire lo zoom avanti e indietro. Per adattare il progetto alla finestra della timeline, puoi inoltre fare doppio clic nel navigatore. Lo storyboard consente di assemblare o risistemare rapidamente i clip. Puoi eseguire inserimenti prima o dopo un clip qualsiasi, o collocare un nuovo clip sopra uno vecchio per sostituirlo. È possibile visualizzare lo storyboard per ogni traccia. Fai clic sul simbolo dello storyboard nell'intestazione della traccia che vuoi usare. Studio utilizza l'approccio dall'alto in basso, ossia ogni elemento viene sovrapposto a un altro. Collochiamo ora del testo sopra un clip video. Potrai notare che il testo è sopra il clip video, e ciò è corretto, dato che il clip video si trova al di sotto. Prova adesso a cambiare la posizione. Se il testo fosse sotto il clip video, non sarebbe visibile, in quanto si troverebbe dietro il clip video. Se eseguiamo una dissolvenza del clip video, lo rendiamo più trasparente, e sarà così possibile iniziare a vedere il testo sottostante. In un clip che contiene video e audio, puoi vedere la forma d'onda come parte del clip nella timeline. Eseguiamo ora alcune operazioni di editing di base. Cerchiamo un punto di questo clip video che desideriamo eliminare. Porta il playhead sul punto desiderato, quindi fai clic su Dividi clip. Il clip che si trova sotto il playhead viene diviso. Per selezionarlo puoi fare clic su uno dei due clip. Puoi vedere un'evidenziazione di colore giallo scuro, che indica che il clip è effettivamente selezionato. Ora fai clic sul pulsante Elimina clip selezionati, o premi il tasto Canch sulla tastiera. Hai appena eseguito il tuo primo edit. Studio utilizza il metodo di editing non distruttivo, il che significa che puoi sempre utilizzare il pulsante di annullamento o Ctrl-Z sulla tastiera. Per spostare i clip è sufficiente selezionarli e trascinarli su una traccia qualsiasi. Per passare all'inizio o alla fine della timeline, puoi usare i tasti Home e Fine della tastiera. Per passare a Taglio o Edit diversi nella timeline, utilizza i tasti Pagina su e Pagina giù. Proviamo ora ad aggiungere una foto alla timeline. In studio è infatti possibile unire foto e video, nonché testo e audio nel progetto. Tieni presente che se la timeline ti consente di aggiungere un elemento, vuol dire che può far parte del tuo filmato. Per aggiungere o rimuovere frame, puoi eseguire il trimming manuale del clip. Il materiale originale è sempre disponibile ai lati del clip, anche se in precedenza lo hai tagliato o hai utilizzato il pulsante Elimina clip selezionati. Porta il cursore vicino al bordo del clip, finché non assume la forma della freccia di trim con una linea verticale. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e taglia il clip, per esporre altre riprese. È divertente, vero? Per operazioni di trimming più precise, fai clic sul pulsante Ritaglio nella barra degli strumenti e usa gli strumenti relativi ai frame sotto l'anteprima. Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo Editing – Tecniche professionali. Nella parte superiore dell'anteprima puoi scegliere di eseguire Editing utilizzando una sola vista o una vista doppia. Quando utilizzi la vista singola, l'anteprima passa automaticamente da sorgente a Timeline. Puoi vedere la sorgente nella finestra di anteprima a sinistra e la Timeline in quella destra. Ciò è utile quando desideri trovare il frame della sorgente che corrisponde esattamente all'azione della Timeline. Proviamo ora a eseguire una classica transizione di dissolvenza tra due clip video. Posiziona i due clip video uno accanto all'altro nella Timeline. Porta il cursore del mouse sopra il clip sinistro. Seleziona l'angolo superiore destro del clip e tira la dissolvenza verso sinistra. Potrai notare che stai trascinando le riprese dal clip a destra nella dissolvenza. In questo modo potrai vedere video in movimento in entrambi i clip mentre ha luogo la dissolvenza. Seleziona il Playhead e posizionalo all'inizio dei due clip. Premi la barra spaziatrice o il pulsante di riproduzione nella finestra di anteprima per riprodurre la dissolvenza. Puoi inoltre eseguire lo scrubbing utilizzando la linea di riproduzione, ossia seleziona tale linea e spostala rapidamente avanti o indietro per avere un'idea dell'aspetto che avranno gli effetti e gli edit in tempo reale senza dover selezionare il pulsante di riproduzione. Seleziona una delle centinaia di transizioni fornite con studio. Trascinala sul bordo del clip. Se stai utilizzando una versione premium di studio, puoi attivare il pulsante Transizioni dinamiche sulla barra degli strumenti e quindi rendere la transizione più lunga o più corta trascinandone il bordo prima di rilasciarla. In tutte le versioni puoi sempre cambiare la lunghezza di una transizione dopo averla rilasciata, trascinandone l'angolo oppure puoi fare clic con il pulsante destro sulla transizione per impostarne la durata numericamente. Proviamo ora a trascinare e rilasciare la transizione dalla libreria all'inizio del clip. Fai doppio clic sul clip nella timeline. Viene così aperto l'editor multimediale. Seleziona la scheda della transizione in ingresso. Posiziona il playhead in modo da vedere la transizione attiva nella finestra di anteprima. Usa ora l'area sul righello per regolare la durata della transizione. Nel pannello delle impostazioni puoi regolare i parametri della transizione per personalizzarne l'aspetto. Se vuoi scegliere una transizione diversa, vai alle categorie poste nella parte superiore della finestra e porta il cursore sopra le transizioni elencate per vederne l'anteprima nel tuo file multimediale. Fai clic per scegliere la nuova transizione. Quindi, seleziona OK per tornare alla timeline. Quando hai terminato di modificare il filmato, premi il tasto Home per spostare il playhead all'inizio della timeline e la barra spaziatrice per riprodurlo. Salve, sono Paul Holtz di Class on Demand. In questo capitolo introduttivo, abbiamo esaminato brevemente la potenza creativa e la flessibilità di Pinnacle Studio 16. Se desideri ulteriori informazioni sulla creazione dei tuoi filmati con l'acclamata tecnologia Pinnacle, scelta da milioni di utenti in tutto il mondo, ordina la tua copia del corso completo di Class on Demand per Pinnacle Studio 16 sul sito web Pinnacle. A nome di Pinnacle e Class on Demand, ti ringrazio per l'interesse dimostrato.